Si aprono le porte dell'Opera 10 Settembre per tre famiglie sfrattate dall'OIOACP. La gestione, con le motivazioni della straordinaria urgenza sociale, è stata presa dalla Giunta Brasiello, che ha reso disponibile l'immobile comunale di Via Orientale. Le tre famiglie disagiate avevano ricevuto da tempo lo sfratto esecutivo e siccome hanno tra i loro componenti dei minori, la Giunta Brasiello si è posta il problema di trovare loro ospitalità per non far perdere loro la patria potestà. Per questo motivo è stata resa disponibile l'ex Opera 10 Settembre, in cui le tre famiglie saranno ospitate per quattro mesi, in attesa che il Comune trovi per loro altre sistemazioni abitative. In questo momento stiamo ricevendo una serie di segnalazioni dai servizi sociali di famiglie che si trovano in disagio. Naturalmente parliamo di sfratti esecutivi e quindi con il rischio di trovarci famiglie sulla strada. A quel punto abbiamo deciso, in accordo con il Sindaco e con la Giunta, di trasformare quello che in effetti già in passato era un centro di accoglienza, in quel caso erano gli orfani, oggi invece parliamo di famiglie, e abbiamo trasformato questa struttura in una casa di accoglienza con la possibilità di ospitare tre famiglie, tre nuclei, però per un tempo molto limitato, parliamo di due mesi più due, quindi con la possibilità di rinnovarli per altri due mesi, tempo necessario per poter reperire sul territorio degli appartamenti adeguati per potergli affidare. Naturalmente è un primo passo che ha fatto questa amministrazione. Successivamente ci siamo anche preoccupati di creare una rete di solidarietà con i comuni limitrofi attraverso l'ambito, che ci hanno dato anche loro la disponibilità di reperire alloggi, appartamenti, nei loro centri storici, per poter gestire questa emergenza, che ormai è un'emergenza sociale di dimensioni veramente difficili da controllare. Già nei prossimi giorni arriveranno le prime tre famiglie, è un esperimento, come pensa che andrà? Dovranno anche adattarsi? Allora, la struttura sarà gestita da un'associazione, l'associazione Solidarietà, che è un braccio operativo dell'amministrazione comunale. Sarà capire se c'è la possibilità della convivenza. In effetti è una struttura alberghiera, ci sono tre grandi stanze, con tre grossi servizi igienici a disposizione di una camera e l'unica condivisione sarà l'aspetto del pranzo, perché avranno una cucina in comune con una grossa sala da pranzo in comune. Grazie.